Una mattinata decisamente inusuale quella che ha vissuto il sindaco di Grosseto a bordo di una mongolfiera trasportato dai venti. Una cosa meravigliosa, uno spettacolo veramente di indicibile bellezza, cullati da un paesaggio meraviglioso che ci regala la nostra splendida Maremma, un qualche cosa di inconsueto, di desueto, grazie a Egista, la società che in mongolfiera ha coniato appunto questo nome, ha portato le mongolfiere nella nostra meravigliosa città di Grosseto. È veramente meraviglioso il silenzio assoluto, cullati dai venti, perché non c'è un elemento direzionale, è il vento che ci trasporta laddove il vento ci porta. Un volo che in qualche modo introduce poi al prossimo fine settimana principina in mongolfiera 2022, grazie all'Atlante SRL che compie 30 anni. Un evento regalato a tutti i grossetani e non solo. A sabato alle 5 inizierà la festa con una mongolfiera sdraiata a metà, ci sarà la possibilità di entrare dentro. Il gruppo di Mantica che farà tutta una serie di spettacoli e esibizioni in attesa delle 7, quando ci saranno 5 mongolfiere che per 3 ore faranno il volo ascensionale frenato fino alla chiusura del Night Glow. È una specie di balletto di questi giganti dell'area stratosferico, bellissimo, non mancate. I passeggeri non se l'aspettavano un volo del genere, sono impazziti proprio quando abbiamo sfiorato le vigne e poi siamo arrivati su alti a circa 500 metri, si vedeva il mare, bellissimo.